Tre giorni all'insegna del divertimento alla mostra d'Oltremane di Napoli per l'appuntamento con l'International Tattoo Fest. La convention organizzata da Costa Tu alias Costantino Sasso si terrà da venerdì 25 a domenica 27 maggio e ospiterà circa 300 tra i migliori artisti dell'arte su pelle che giungeranno da ogni parte del mondo per sfidarsi a colpi di creazioni live in diversi contest presentati da Emis Gallo sulle note del DJ Frank Carpentieri. Un appuntamento atteso sia da coloro che hanno già il corpo segnato da opere d'arte su inchiostro sia per i numerosi curiosi che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Il Tattoo Fest infatti punta sempre a un approccio culturale al tatuaggio osservando tutti i vincoli igienico-sanitari e valorizzando le opere degli artisti tatuatori come spiega Costantino Sasso. Ci saranno quasi 300 tatuatori provenienti da tutto il mondo ognuno tatuerà durante questa manifestazione e il bello sarà proprio vedere tutti questi stili diversi quindi dal tatuaggio realistico al tradizionale al maori e il bello sarà vedere anche i tatuatori provenienti dalla Polinesia che tatueranno con tecniche tradizionali, con le bacchette quindi sarà bello vedere questi tatuatori che incidono con delle bacchette proprio su pelle. Quest'anno abbiamo cercato di associare alla convention anche tanta musica perché già le macchinette con il loro ronzio fanno musica e è bello anche ascoltare dopo musica in giardino ci sarà un aperitivo il venerdì con tanti DJ PJ Johnson, GGNO, Marco Corvino, Holland, Dario Rossi il venerdì il sabato ci sarà una crew che organizza una battle di breaking quindi ci saranno persone che si sfideranno due contro due in balli e ci sarà anche un monte premio tutte le persone che entrano possono iscriversi quindi è bello anche coinvolgere il pubblico.